ma la provo prima normale perché non l'ho ancora fatta con la curva non ma 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 voi Oh Luigi, cacchio! Bravo! Oh, l'hai fatto benissimo, bravo! Oh, l'hai fatto benissimo! Cazzo, arrivo sempre qua, arrivo qua! Oh, l'hai fatto benissimo! 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 L'hai fatto benissimo! Allora, proviamo di qua! Oh, io arrivo sempre qua! Lui esce qua! Lui esce lì! Al taglio proprio esce lui! Prende l'arga là e esce qua! Sembra facile! Eh, non è facile eh, bravo Gianni! Sembra facile! Non so se è culo, però è nulla! Prende l'arga! Maurito! Eh, stiamo chocando un po' Questo! Buon po' Sì! Aspettare il po' grande bravo spanti tienila tranquillo bene il peso parti e lasciala andare vai 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 è buono che buono dovete andare di lì ma di là ah già perchè zecchi da traiettori e qua è difficile devi proprio venire su qua la zecchi però è bella perché prende una mezza s io questo qui non c'è più c'è più è posto la fa bene johnny si riesce a prendere la traiettoria giusta qua perchè la fa saltane qua wow tasca costante bravo bravo vieni su meglio vieni su meglio prima prima occhio occhio c'è arriva questo pezzo qua guarda la è rivirato così c'è 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 e a farla al contrario è tosta è da quello no non ti lascio più vai nell'acqua ma vai a cagare va dopo di salire in macchina non la puoi scordare poi pulita com'è questi giorni appunto come forse è stato